Tra le opportunità formative e professionali offerte ai nostri giovani, oltre al percorso degli studi universitari, c'è anche quello della carriera militare. L'Arma dei Carabinieri lancia il concorso per la missione all'Accademia di Modena. I giovani di entrambi i sessi, di età compresa tra i 17 e i 22 anni, entro il 31 gennaio possono presentare domanda di partecipazione al corso per la formazione di base dei nuovi ufficiali. Coloro che verranno selezionati, i cadetti, potranno frequentare un corso di due anni svolto in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e proseguire poi la preparazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma fino al conseguimento di una laurea specialistica che all'età di 23 anni immette in carriera col grado di tenente. Per illustrare queste opportunità ai giovani valtellinesi diplomati o prossimi alla maturità, il Comando Provinciale Carabinieri di Sondrio propone due open day nei pomeriggi di domani e venerdì. A partire dalle 16 e 30 gli ufficiali in forza alla Caserma Alessi in Largo Sertoli 5 saranno a disposizione per fornire agli interessati ogni informazione utile riguardante il percorso di formazione alla vita militare.